Nuova location targata a Crazy Low Television, siamo arrivati anche a Benevento, siamo nel Sannio, sempre più contenti, sempre più briosi, perché siamo in un meraviglioso locale di nuova tendenza, siamo al... Al Fuego, questa sera una serata ricca di fuoco, allora scopriamo insieme gli amici che frequentano il Fuego, conosciamo i vari DJ che si alternano questa sera in console e guardate il meglio delle immagini. Ma poi dove i grandi eventi contano Radio.Zero, Crazy Low Television c'è, quindi si inizia con Crazy Low Television ricca di fuego. Now don't get me wrong, cause I think you're kinda cute. You want me to shake my booty, but you ain't got no news. So you think that I'm sassy, it's only cause I'm classy. The girls who shake their assies are the ones who are really nasty. Now I'm the kind of girl that you want on the show. Cause I know how to shake my booty, and I know how to make you moe. Come on baby, do you do it, let me see you shake that booty. Come on baby, do you do it, let me see you shake that booty. Come on baby, do you do it, let me see you shake that booty. Come on baby, come on baby. E lui è Marco, lui che organizza tutto qui al Fuego. È vero, è vero. Ma qui viene spacciata allegria. Tanta, tanta, bellissima, bella serata, stasera come tutte le domeniche. E l'appuntamento lo rinnoviamo come ogni volta, sempre lo stesso format, la domenica più vende del sagno. Marco, ma è vero che qui ci sono le donne più belle di Benevento? Ma cotta qua. Allora, qualche volta ci fanno la comparsa. Però diciamo che il livello di donne è bellissimo, è altissimo. Ma abbiamo anche saputo che qui è assolutamente evitato annoiarsi, è vero? Qua non ci si annoia mai. E allora, tutti al Fuego Benevento. E poi ci sono dei DJ straordinari. Allora, straordinari, aspetta, tu, non ci sono io, quindi non sono straordinari. Cioè, allora c'è Marco che è straordinario. C'è il bello di Benevento. Allora, è tutto bello, è tutto perfetto. Però se gli amici di Radio Punto Zero vengono una volta ogni settimana, è ancora più bello. Marco, se tu ci inviti, noi veniamo tutte le settimane. Allora, io non vi invito perché già sapete che l'appuntamento esiste tutte le domeniche. Oh, per dirci. E venite, venite. Io vi faccio una cosa. Vado a conoscere gli amici del Fuego un po' in giro. Perché c'è il fuoco. E conosciamo un po' gli amici e le amiche che frequentano il Fuego. Vado a conoscere il tuo nome. Vanessa. Vanessa, com'è questo locale? Stupendo. Io vedo le tue amiche di là. Venite anche voi. E fai vedere anche i gadget che hai ricevuto questa sera. Una bellissima stellina. Invitiamo tutti quelli che guardano la tv a venire qui al Fuego. Sì, allora invito tutti i ragazzi di venire qui al Fuego a Benevento. Davvero ve lo consiglio perché è un locale srebitoso. E allora salutiamo. Ciao. Eccola qua. Noi dobbiamo regalare un cuore. Il tuo nome? Monia. Monia, benvenuta. Insomma, com'è il Fuego? Un consiglio sul Fuego. Com'è il Fuego? Bellissimo e divertentissimo. Elegante e soprattutto. Soprattutto. E poi ben dotato di bei ragazzi. Io gli do il cuore di Crazy Love. Ti è becca di questo. Grazie. Oh yeah. E abbiamo il più grande fotoreporter, fotografo di Benevento e non solo. Giovanni. Di Dio. Di Dio. Ciao a tutti. Giovanni. Niente a voi comunque. In tutti i locali in ci sei a immortalare i momenti più belli. E naturalmente i locali in come il Fuego. È normale. È logico. Ci sono nato al Fuego. Quindi è il mio intro nella moda, nel mondo del glamour, nel mondo dei locali. E dove troviamo le foto della serata? Le foto della serata su Facebook. Giovanni Di Dio. E c'è anche il fan club. Foto Giovanni Di Dio fan club. Aggiungete Giovanni Di Dio. Continuiamo a dare i nostri cuori, i cuori di Crazy Love. E conosciamo le amiche del Fuego, i vostri nomi. Emanuela. Il tuo nome? Morena. Com'è questo locale? Bellissima. Ti piace venire qui al Fuego, no? Sì, Fuego. E allora venite perché ci sono le donne più belle di Benevento. A chi lo diamo questo cuore? Io. Accontentate. Continua la magica notte qui al Fuego di Benevento. Mi trovo in compagnia di? Patrizia. Patrizia, benvenuta. Allora, tu sei con lei che cura un pochettino la parte bar. Insomma, mi dici il cocktail più richiesto da questi ragazzi qui in questa serata? Vedono tutti qualche Red Bull di tutti i tipi. qualche melone, qualche stracola, qualche pesca Red Bull. Sex and the Pitch. Tutto però a base di Red Bull. Tutto a base di Red Bull. Un motivo per venire qui e per far venire i nostri telespettatori al Fuego. Venire bene una settimana e iniziarne carica un'altra. E poi c'è Pati che è una donna di fuoco. Continuiamo con le immagini. Fuego Benevento. E anche qui al Fuego si festeggiano, al Fuego si festeggiano anche i compleanni. Il tuo nome? Teresa. Teresa, innanzitutto auguri e benvenuta al Fuego. Mi dici, da dove vieni? Da Piedimonte Madese. Quindi vieni dalla provincia di Caserta. Sì, sì. E beh, uno dei motivi per venire qui al Fuego? Perché c'è Marco e perché c'è bella gente. E poi qui è tutto un Fuego! E domenica notte, sono le due e il Fuego vive! Vive! È bellissimo. Allora, contro le calamità naturali siamo qui a festeggiare la nostra Sunday Party, il nostro successo da quattro anni qui a Benevento. Il Fuego porta bene. Porta benissimo. E poi l'ho detto, le due di notte di domenica, ma chi è che ha un locale strapieno così? Solo il Fuego di Benevento. Allora, facciamo concorrenza al cinema. L'abbiamo strabattuto. Facciamo anche questo. L'abbiamo strabattuto. Sì, sì, sì. Evviva il Fuego, guardate un po'. Allora, facciamo anche questo. Allora, facciamo anche questo. Grazie a tutti.